Sono 42 gli extravergini di oliva scelti per la selezione 2018 e presentati in regione per diventare ambasciatori della produzione oleare ad eccellenza toscana. Una commissione regionale d'assaggio ha selezionato gli oli, tutti certificati in una delle 5 DOP e IGP registrate per la Toscana. E l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi li ha premiati con attestato in una cerimonia in cui è seguita una degustazione. La regione toscana e Promo Firenze hanno fatto questa selezione in un'annata particolare perché ce lo dobbiamo ricordare il 2017 che è stata un'annata piuttosto critica sull'aspetto della quantità ma che non ha inciso minimamente sull'aspetto qualitativo della produzione. Tutti gli oli sono stati inseriti in un catalogo in italiano e in inglese e sono il meglio di una produzione che in Toscana conta 50.000 aziende su 92.000 ettari per oltre 15 milioni di piante. Due sono stati gli oli che ogni produttore poteva proporre, sottoposti alle prove dell'olfatto e del gusto dagli assaggiatori, investiti di una grande responsabilità. Facendo una scheda tecnica alla fine si dà un punteggio finale che poi alla fine andrà a fare media su tutto il panel e la media avrà il valore giusto, un valore effettivo. La selezione 2018 degli oli extravergini toscani esordirà ufficialmente alla Fiera Internazionale Cibus 2018 in programma a maggio a Parma. Grazie.